la federazione di luce via blossom good child 11 aprile 2021 traduzione marina ciao a tutti ho pensato di fare una pausa la settimana scorsa e dare una svolta a white cloud è bello essere di nuovo con voi che cosa avete fatto benvenuto a te blossom e ognuno abbiamo monitorato lo stato delle cose sulla terra è tutto intorno perché non siamo solo i supervisori dei supervisori riguardo alle questioni del vostro pianeta terra quindi quanto supervisionate un bel tempo galassi in abbondanza davvero e avete il tempo di chiacchierare con me ma come sai blossom non stiamo solo chiacchierando con te siamo in grado di raggiungere molti attraverso di te e quelli che raggiungiamo stanno crescendo sempre di più in numero e quindi stanno elevando la vibrazione del vostro pianeta che naturalmente è il nostro scopo per cui comunichiamo con te quindi chiacchierate con altri esseri simili a blossom su altri pianeti siamo in comunicazione con molti e con quelli che necessario farlo tuttavia in verità diremmo che la nostra attenzione principale sul vostro pianeta in questo momento perché c'è molto da rettificare e di cui prendersi cura molto da supervisionare come viene fatto esattamente in modi in molti modi vari e complessi tuttavia la tecnologia che ci permette di vedere le vostre situazioni è una parte integrante e molto accettabile del viaggio che voi e noi stiamo facendo quindi quando ci vedete ci vedete come noi questo naturalmente è possibile sui monitor e tali dispositivi di screening tuttavia la nostra partecipazione complessiva è da un punto di vista energetico e questo siamo in grado di misurarlo con strumenti che sono molto al di là delle conoscenze di quelli sulla terra quindi se vedete che le cose vanno alla rovescia cosa fate continuiamo a monitorare come sapete non siamo qui per intervenire e correggere non è la nostra posizione tuttavia abbiamo il permesso di fare come facciamo nell'assistere le vostre anime nel ruolo di esseri umani come un aspetto per ricordare chi siete nella vostra luce e verità che poi a sua volta permette al vostro pianeta di aumentare in luce che a sua volta realizza il piano divino che è ordinatamente e saldamente al suo posto ok così molti si sentono storditi e hanno sintomi di vertigini in questo momento presumo correttamente che questo è dovuto alle energie di luce vibrazione superiore di vibrazione superiore che arrivano questo è corretto blossom allora chi è responsabile di aver tolto il coperchio in modo che le energie si riversassero giù capiamo cosa stai chiedendo e tuttavia ti rispondiamo dicendo che non c'è un equipaggio particolare che ha questa responsabilità il fatto che queste energie superiori si riversino è dovuto all'evoluzione in un certo senso alchimia divina diremmo queste energie superiori si sono evolute in questo modo a causa del corso naturale del piano divino sento che questo diventerà complicato perché voglio chiedere chi ha ideato il piano divino nella consapevolezza e comprensione che dio è amore e non una persona seduta a una scrivania con carta e penna che scrive questo piano l'ha ideato l'amore e in effetti blossom questo diventerà complicato l'amore in sé come se di per sé è della più alta intelligenza esistente come amore ha riconosciuto la vibrazione molto bassa di se stesso che il vostro pianeta ha sperimentato è a causa del livello e del danno più basso che questa sperimentazione ha creato l'amore in sé come se di per sé ha sentito il bisogno e il desiderio assoluto di cambiare rotta da questa degradazione e abiezione così l'amore in sé come se di per sé ha sentito la necessità di lasciare che la luce ancora una volta regnasse sopra attraverso la vostra amata gaia una volta che quella decisione fu presa proprio il pensiero stesso del riconoscimento mise in atto il piano divino in modo che la sua transizione dal buio alla luce potesse essere la sua magia l'intelligenza divina lavora in sé stessa come se stessa e di per sé stessa quindi l'amore è un'intelligenza senza anima cervello se capite a cosa sto cercando di arrivare l'amore è tutto l'amore è l'unica vera anima da cui ognuno di voi deriva considerate questa parola fusto cresce da una radice e si ramifica in sostanza vi è stato dato l'onore e il privilegio di andare avanti crescere avanti dalle radici stesse dell'unica anima di amore che è amore e attraverso le vostre esperienze riportare indietro attraverso l'energia le dimensioni a cui siete giunti ci stai seguendo sì allora è attraverso il nostro resoconto che sono state prese le decisioni per fare questo cambiamento certamente tuttavia tenete anche conto che i rami si estendono in lungo e in largo e in ogni possibilità della vita stessa quindi in termini di comprensione diremmo che forse il pianeta terra è stato creato da semi caduti da un ramo dell'onnipotente fusto forse altri semi sono caduti da un altro ramo che ha creato un altro pianeta ogni specie dipende dal seme che è caduto e dove è caduto creando il proprio programma come un esperimento di vita nelle sue diverse forme per vedere quale disegno sarebbe sbocciato dal suo progetto originale credo di seguire penso di seguire vedi blossom l'amore è vita dove c'è amore c'è vita dove c'è vita c'è amore in molti miliardi su miliardi di frequenze vibrazionali in continuo cambiamento sempre in evoluzione sempre a sperimentare per sempre e per sempre in tutte le sue molteplici equazioni o non fatemi parlare di matematica sapete che svengo eppure quando dite equazioni è letteralmente tutto derivato da equazioni no è tutto derivato dall'amore tuttavia affinché un disegno si esprimesse aveva bisogno di un formato da seguire per realizzarlo quindi allora boh non so nemmeno come formulare la domanda lascia che ti aiutiamo dandoti la risposta sì ogni frequenza vibrazionale ha molte equazioni per farla arrivare in un luogo tuttavia tenete anche a mente che con ogni respiro l'equazione cambia a causa di ogni pensiero che ognuno sta avendo in ogni dato momento di quel respiro quindi come può mai un'equazione arrivare a un luogo perché lo fa in ogni momento di un respiro e un pensiero e soprattutto un sentimento sarebbe meglio metterlo così come il sentimento che è il luogo la risposta all'equazione che può durare ancora per un altro respiro un altro momento non nel tempo perché non c'è ancora un momento di esperienza wow la mia testa sta per esplodere perché so che è impossibile anche solo coglierne l'enormità eppure anche se nella vostra esistenza fisica umana potete sentire che è così ricordate anche che siete stati parte della sua creazione quindi ora torneremo al punto di non ritorno io sono la luce io sono l'amore io sono la verità io sono la signora confusa di inusa all'interno della divina intelligenza il piano divino che è in atto sul vostro pianeta e possiamo aggiungere come molti sanno che il viaggio di questa transizione e in effetti il suo esito e destinazione come la nella della sua prossima fase di sé influisce su tutto perché tutto è parte di tutto nulla può essere è al di fuori dell'amore perché tutto è amore sì quindi il punto di non ritorno è ora che significa all'interno di questo piano divino a causa dell'amore stesso che prende la decisione che l'esperimento delle tenebre sul vostro pianeta in particolare non deve andare oltre la luce che sta filtrando combinata con le vostre energie di luce ognuno si sta ancorando nel nucleo stesso dell'anima della vita che è conosciuta come madre terra questo dobbiamo aggiungere la sta guarendo dalle ferite che le sono state inflitte a causa dell'essere parte dell'esperimento dell'esistenza umana è stata qui come la roccia su cui costruire e durante tutti gli abusi che le sono stati inferti non ha forse la non ha forse la forza di darvi il sole i fiori il vento e la pioggia gli oceani gli uccelli gli insetti la vita i mammiferi in tutta la loro gloriosa bellezza questa forza che è dentro di lei è dentro di voi perché voi venite dallo stesso fusto dallo stesso ramo dallo stesso seme e ora la vita amore stessa ha deciso che l'oscurità ha avuto il suo tempo per fare esperienza e che è seguito un alt la gloria di ciò che è luce e amore su una frequenza più alta di bellezza e dare e condividere e partecipare a tutto ciò che è buono è lì che vi aspetta conoscetela siatela sperimentate con essa o la gioia che verrà la gioia che aspetta di servirvi come voi a vostra volta la servirete come dice il detto voi siete quelli che stavate aspettando e tuttavia ora l'attesa è finita poiché ognuno riconosce che è così e che voi siete sempre stati lì quanta forza ci vuole per effettuare il cambiamento che forza avete più accettate e capite questo come la vostra verità più doni si dispiegano mentre vi elevate mentre vedete la vostra missione mentre diventate la luce più brillante che come uno solleverà tutto perché quando voi una persona capite che l'amore luce che siete può spostare le montagne allora capite che come individui insieme come uno potete spostare il vostro amato pianeta terra nella sua nuova casa bellissimo ragazzi così incoraggiante grazie ingratitudine in amorevole servizio io sono ancora un po confusa credo o forse no non lo so traduzione e voce marina